L'indagine che abbiamo fatto è basato sui stessi metodi di ricerca che usiamo per l'elezione del presidente negli Stati Uniti. Basato su questa indagine abbiamo un'identity di quello che sarebbe il vostro Gesù di maggior successo. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo! Guardi, io sono rimasto come folgorato da questo viso. E' proprio Gesù. E allora? Noi avevamo pensato. Devo fare miracoli? Oh ma che sto a fa? Roba dei preti, ci metti nei chiasini. Dei preti? Di chi è questa faccia? Dei preti, è la mia questa faccia. Sono un Gesù Cristo pentito. Ma perché sei andato da mia madre? Sei pazzo? Potevo portarla alla polizia, ma loro hanno già carri armati, bazooka, mitra. La pistola era nella sacca di Francesca? La pistola la devo riportare a Francesca. Solo lei sa cosa farsi. Tempi duri per Gesù. Chi è? Francesca! Cosa fa? Li vuoi uccidere? Sì! E se non si ripresenta, dove lo andiamo a cercare? Un indirizzo? Un telefono, diamine! Gesù, me lo fa un autografo? Ne faccio anche quello di San Pietro che ho la delega. Me lo fai un miracolo? Ma non sono mica Gesù io. Sì che sei Gesù. No che non sono Gesù. Ma tu da dove vieni? Cosa fai? Chi sei? Senta! Senta lei! Cattatore! Gesù! Vengo subito!